ma la ripresa non lo so come come non lo so certo come il fatto non lo so eri tutto avanti sotto quando parti sotto il culo sul parafango dietro quando arrivi a metà incomincia a tirarti avanti quando arrivi qua ti tiri avanti tutto c'è un problema l'hanno inizio che non riesco a prendere la velocità sulla curva capi? lo vedi? quello si chiama speedway e non trial non riesce a prendere la velocità sulla curva?